Un evento importante, importantissimo, perché fatto da un gruppo di professionisti giovani che ha deciso di investire sul nostro territorio. Una bella storia di rientro, ma anche di aggregazione attorno al tema del digitale come attrattore rispetto alle capacità e alle competenze, che pone Bari come capitale, non solo nel Mezzogiorno Italiano, rispetto alla discussione, all'approfondimento, alla ricerca, al miglioramento delle competenze, ma lo pone anche come valorizzazione del capitale umano. Quindi un invito che faccio a tutta la comunità di Pugliesi a partecipare, a iscriversi, a far sì che questo momento sia un momento anche per raccontare la Puglia che cresce, la Puglia che vuole creare comunità e aggregazione. La Regione Puglia non sostiene, ma ringrazia l'organizzazione di questo evento a Bari Capitale Digitale, ringrazia Nicolò Andreula, tutto il suo staff di sponsor privati, che sono Fincons, SIDEA e NTT Data, che hanno voluto testimoniare la loro presenza qui in Puglia. Una terra che attrae talenti del posto, quelli che sono andati fuori e ritornano, ma anche cittadini del mondo che possono trovare qui un progetto di studio, di lavoro, molto interessante, ma soprattutto un progetto di vita felice. Ed è questa la ragione per la quale un evento come questo, che attira veramente da tutta Europa, è un momento fondamentale della nostra strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti. È importante sottolineare che Bari is open for business, cioè il fatto che Bari è spesso vista come una città dove la gente vuole tornare, dove chi è nato qui e se ne è andato vuole ritornare. Noi proponiamo Bari come una capitale digitale dove la gente vuole arrivare, dove persone da fuori vengano a investire, dove chi non ha neanche mai studiato qui o venuto solo in vacanza decida di aprire un'azienda, decida di fare smart working, anzi south working. Bari è viva, ci sono tante opportunità del digitale e sta a noi coglierle, non ci sono più scuse. Il dialogo è fondamentale. C'è una serie di ragazze e ragazzi che hanno molti dubbi, se trasferirsi qui, se iniziare a fare impresa, se scegliere tra un'università del nord o all'estero oppure una di queste qui. Ecco, noi siamo qui per parlare con chi ci è già passato, chi ha avuto esperienza di fallimento o di grandi successi. E diciamo che certe scelte non vanno fatte convinti al 100%, ma un pizzico di paura ci sta, l'importante è avere il coraggio e un ecosistema di supporto. E noi, grazie alle istituzioni e al dialogo con molti imprenditori del territorio, cerchiamo di crearlo. Abbiamo quattro temi fondamentali che la tecnologia abbraccia o impatta. Il primo è quello della sostenibilità, Il secondo è quello dell'intelligenza artificiale, con l'impatto sia sul business che sulla società e quindi a livello etico. Il terzo è quello della diversità e l'inclusione. Il quarto è l'incontro-scontro tra generazioni. Se riusciamo ad affrontare questi temi, allora la tecnologia potrà avere un impatto positivo e allargato, altrimenti sarà a pannaggio di pochi e lo vogliamo evitare. L'Italia Digitale è un evento che tengo a precisare, è gratuito per chi lo frequenterà in questo weekend in cui centinaia di giovani da tutta Italia, soprattutto dal meridione, si confronteranno con stakeholder, con aziende, con imprese e anche con chi ha già fatto un'esperienza nel digital, nel marketing e nell'ICT a livello nazionale e internazionale. Bari e la Puglia diventano delle capitali del digitale per qualche giorno e lo fanno consentendo ad una platea che è cresciuta in questi tre anni di giovani di farlo gratuitamente. Eventi del genere a Bologna, a Milano, a Rimini costano centinaia di euro. Adesso grazie anche ad una sana sinergia con i privati e ad investimenti di sponsor privati e riusciamo ad ospitare queste persone, questi ragazzi a livello gratuito. Quindi noi riusciamo a trasformare anche la narrazione del nostro territorio, della nostra città e a mostrarla al pubblico per quella che è veramente. C'è una città accogliente che non è ospitalità di maniera, ma è abbracciare tutti in un momento anche delicato per la nostra storia, però lo facciamo con il volto migliore, che sono i nostri ragazzi, i nostri giovani che con competenza, passione ed energia animeranno questo weekend di studio, di riflessione e anche di spensieratezza.